Buon pomeriggio a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati al consueto aggiornamento di Trading con Ichimoku più Price Action sessione che svolgiamo il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17 infatti se volete iscrivervi potete proprio andare qui, Trading con Ichimoku più Price Action se invece volete vedere una sessione completa di questo servizio, quindi una sessione di esempio potete andare nella sezione servizi, Trading con Ichimoku più Price Action dove troverete anche numerose recensioni qui in basso e qui trovate la lezione completa, una sessione di trading completa bene ora andiamo subito sui grafici perché ne abbiamo molti, voglio partire però con il gold allora la situazione sul gold è la seguente, siamo all'interno come ho visto anche al webinar del lunedì quindi di questa figura di congestione, come vedete abbiamo i minimi che rimangono sempre intorno alla zona dei 1912 ma dei massimi via via decrescenti, però sul time frame orario avevamo individuato dopo l'ultimo minimo 1910 un trend ben definito a rialzo e guardatelo infatti avevamo dei massimi via via crescenti quindi siamo entrati da 1950 e infatti oggi i prezzi hanno raggiunto persino il livello di 1970 aggiornando il massimo precedente poi però nel pomeriggio c'è stato un forte storno che ha portato le quotazioni nuovamente a 1950 dollari per once avevamo spostato lo stop loss in pareggio e di conseguenza siamo usciti definitivamente dalla posizione la mia view è ancora rialzista e manterrò quindi questa view almeno fino alla rottura del livello di 1940 un vero peccato che questa posizione è stata chiusa però per il momento non andiamo ad operare anche perché molta attenzione se sul time frame giornaliero assistiamo a un'altra seduta con un'ombra importante a rialzo e ragazzi guardate nelle ultime settimane quante volte è successa questa cosa subito dopo una piccola ombra forti storni al ribasso quindi potrebbe cambiare la mia view definitivamente attenzione però perché comunque il livello di 1912 rimane sempre la zona più importante comunque ne ha giovato che cosa? la nostra posizione che abbiamo aperto anche oggi per coprirci un attimo su euro dollaro andiamo infatti e l'ho detto chiaramente anche alla rubrica caffè mercati a tutti poi nel gruppo traders club abbiamo aggiornato le varie posizioni infatti se andiamo sullo time frame orario vediamo come questa mattina alle ore 12 intorno alle ore 12 abbiamo aperto una posizione a ribasso una posizione short da 1.19 con quindi l'apprezzamento del dollaro chiaramente il cambio euro dollaro è sceso ed è andato ad interessare la zona degli 1.18.50 1.18.50 è un livello molto interessante infatti da qui abbiamo deciso di spostare lo stop in pareggio perché se lo andiamo a vedere su 15 minuti è una buona zona comunque non voglio dilungarmi oltre siamo short su euro dollaro quali sono i nostri obiettivi? i nostri obiettivi sono 1.17.50 quindi sostanzialmente la parte bassa di questo trend laterale che possiamo vedere in figura quindi siamo a favore di dollaro americano e lo siamo anche sull'altra posizione che abbiamo aperto che è USDCAD dopo questo bel ribasso abbiamo individuato un possibile attenzione cambio di tendenza con questo impulso e questo ritracciamento e quindi siamo entrati in posizione la zona degli 1.31.40 già menzionata questa mattina sta funzionando abbastanza bene da supporto monitoriamo il tutto anche sul time frame orario per capire se la zona tiene anche questo ha già funzionato molto bene sarà molto importante capire se il dollaro continuerà ad apprezzarsi questa settimana o meno io penso di sì però manteniamo sempre alta la guardia e cerchiamo di gestire al meglio le varie posizioni qui non abbiamo ancora lo stop loss in pareggio perché secondo me è troppo presto invece abbiamo lo stop loss in pareggio su un altro trade che stiamo portando avanti che è il cross valutario AUDICAD AUDICAD che ha raggiunto il primo target quest'oggi a 0.96.50 abbiamo quindi deciso di spostare lo stop loss in profitto di 50 punti a 0.96 i prezzi hanno raggiunto quindi il massimo precedente e hanno subito ritracciato vediamo se avranno la forza di riprendere il cammino rialzista comunque sul time frame orario è abbastanza chiara la tendenza dobbiamo vedere se da qui adesso i prezzi torneranno a salire e si riporteranno sopra il livello di 0.96.50 ora però andiamo a vedere anche altri strumenti perché abbiamo visto il gold abbiamo visto euro dollaro e abbiamo visto pure USDCAD e AUDICAD scusate dobbiamo andare ora a vedere un cambio particolarmente anzi un cross valutario particolarmente interessante che è franco svizzero contro yen giapponese andiamo subito a vedere questo cross sul time frame giornaliero abbiamo un trend che se visto da qui sembra essere rialzista però i primi segnali ribassistici sono con l'impulso l'impulso ribassista è partito venerdì 28 di agosto che va a rompere la Kijun e abbiamo anche assistito a un ritracciamento che si è concluso evidentemente il giorno 10 di settembre da qui i prezzi hanno iniziato a scendere e che dire io lo terrei d'occhio perché non solo possiamo arrivare a 115-115.40 insomma la zona dei minimi precedenti dell'8-9 settembre ma possiamo anche proseguire con i target che ho menzionato in figura poi li andremo a vedere nel dettaglio durante la sessione di giovedì quindi vi aspetto lì come sempre numerosi detto ciò per capire se è il momento giusto per entrare possiamo anche andare sui frame inferiori infatti possiamo scendere sia sui 4 ore ma anche sull'orario per vedere quali sono i punti chiave come vedete qui noi abbiamo una trend che è ribassista quindi ogni ritracciamento secondo me può essere utile per entrare valuto quindi uno short su CHF Yen nei prossimi giorni lo stesso ragionamento che abbiamo fatto su CHF Yen lo stavo facendo anche su EuroNZD dove abbiamo impostato un ordine pendente che purtroppo non è stato colpito però la nostra view ribassista sembra darci ragione qui quindi stiamo andando alla ricerca di un livello per comprare dollari neozelandesi e vendere Euro come vedete il ragionamento è simile abbiamo un precedente trend rialzista e poi un fortissimo impulso che cambia chiaramente il trend di fondo quindi sul ritracciamento abbiamo individuato il livello di 1,78 come livello chiave per entrare al ribasso uno stop abbastanza stretto perché già se i prezzi chiudono sopra la Kishun io valuterò di uscire dalla posizione per ora lo stop loss di sicurezza è 1,80 e anche qui abbiamo dei bellissimi obiettivi perché il più ambizioso è in area 1,71 poi prima come sempre c'è il primo target che è rappresentato dai minimi precedenti del 3 di settembre allora ragazzi io qui di cambio ne avrei ancora moltissimi da vedere ma vi aspetto all'appuntamento del giovedì pomeriggio alle ore 16 trading con Ichimoku più Bryce Action buona giornata e buon trading a tutti